Ciao a tutti, sono Martina della Samovar Viaggi e adesso vi faccio vedere come si prenota un ristorante tematico sul monitor touchscreen a bordo di Costa Smeralda. È facilissimo, basta cliccare su italiano, cliccare su ristoranti, scegliere il ristorante tematico di nostro gradimento, cliccare su prenota ora, avvicinare la nostra costa calda al lettore, selezionare gli ospiti, continua, scegliere il giorno e la fascia oraria, cliccare su continua e confermare la nostra connotazione cliccando ancora una volta su continua, come vedete è semplicissimo. Ciao!